Benvenuti nel mio canale dove imparerete a conoscere il Feng Shui e come armonizzare la vostra casa. Oggi vedremo Più 5 segreti del mantra Om e del Feng Shui I 5 segreti del mantra Om e del Feng Shui. Sicuramente tutti voi avete sentito. Ho cantato il mantra Om in meditazione o ne avete sentito parlare. Ma non sapete bene come usarlo e quali benefici ci porta. Per utilizzarlo correttamente, la prima cosa da sapere è Che cosa significa il mantra Om? Considerato un mantra sacro in religioni come il Buddismo o l'Induismo. L'Om rappresenta il primo suono originato dalla prima vibrazione o vibrazione primordiale. Che è la vibrazione che nasce dal vuoto. Simboleggia l'unità del fisico e del divino. Unione con il supremo divinità. Si dice che la sua vibrazione rappresenti la coscienza dell'intero universo, nota come Akasha. Anche dall'interno dell'essere emana un canto continuo che suona come Om. Che è il suono che nasce dal vostro silenzio interiore, anche se non è percepibile. Come si produce il suono del mantra Om? Anche se è scritto Om, si pronuncia Om. Le tre lettere A, U e M si riferiscono al corpo, alla parola e alla mente. Rappresentano anche la Trimurti o Trinità dell'Induismo, Broma, Vishnu e Shiva. Broma è il dio creatore dell'universo, Vishnu è il dio conservatore, incaricato di preservare. O conservare l'universo e Shiva è il dio distruttore. Inteso come ricreatore che dà spazio a nuove forme di vita. Rappresentano, quindi, i cicli di creazione, conservazione e distruzione dell'universo. Lettera A. Quando la pronunciate, sentirete la sua vibrazione nel petto, dove c'è il cuore il cui battito rappresenta la vita. Break, time uguale 0,5 secondi barra pertanto, come il dio Broma, la vibrazione di questo suono rappresenta la creazione, la nascita e la vita. Lettera U. Quando viene pronunciata si sente la vibrazione nella gola e nel quinto chakra, legata all'espressione. All'espressione della nostra vera essenza. Rappresenta quindi la parola. Lettera M. Quando viene pronunciata, la sua vibrazione risuona in tutta la testa, soprattutto nel sesto e nel settimo chakra. Simboleggia la liberazione o il passaggio a un nuovo stile di vita. È legato alla liberazione perché la sua vibrazione ci aiuta a sciogliere gli eventuali blocchi. E ad aprirci a uno stato di coscienza superiore. Il canto di Om rappresenta quindi una porta verso la trasformazione. In quanto ci aiuterà nella nostra evoluzione personale e spirituale. Ci sarebbe anche un quarto suono che è il silenzio. Poiché dopo aver pronunciato l'Om lasceremo uno spazio di silenzio prima di iniziare il successivo. Come meditare con il mantra Om? Che cos'è un mantra? La parola Man significa mente e trassignifica liberazione. Il mantra è quindi la parola o la frase sacra che, pronunciata ripetutamente, ci aiuta a liberare la mente e a raggiungere stati di coscienza più elevati. Il mantra Om è quindi considerato un mantra che possiamo ripetere come forma di meditazione. Per questo è importante acquisire una postura confortevole. Si può stare seduti a gambe incrociate nella posizione del loto, o semplicemente seduti su una sedia con la schiena dritta. Le mani possono essere appoggiate sulle ginocchia, o si può usare un Mudra. Si inclina leggermente il mento verso il basso e si pronuncia l'Om ad alta voce. Sentendone la vibrazione e lasciando un silenzio intermedio. Benefici del canto Om. I benefici della recitazione del mantra Om sono molteplici e sono stati scientificamente provati. Tra i suoi benefici, aiuta a calmare la mente e a rilassare il corpo, portando a uno stato di profondo rilassamento, che lo rende ideale per aiutare a ridurre lo stress e l'ansia. Inoltre, aiuta a eliminare le tossine e favorisce la creazione di melatonina, l'ormone che regola il ciclo naturale del sonno. In questo modo si favorisce un sonno più riposante. Ora che abbiamo imparato a usare questo potente mantra, e a trarne beneficio per la salute del nostro corpo. È necessario conoscerne il significato in modo più profondo, e per questo è importante conoscerne il simbolismo. Che cosa significa il simbolo Om nel Feng Shui? Quando osserviamo il simbolo Om, la prima cosa che notiamo è la forma di un tre accanto a un cerchio. La curva inferiore delle tre è nota come Vaishvanara, che si traduce come veglia. Rappresenta lo stato cosciente, lo stato da cui sperimentiamo la vita con i cinque sensi. Simboleggerebbe anche la Terra. Il cerchio che si vede accanto al tre è noto come Taiyase, e rappresenta lo stato di sogno. Tra il sonno profondo e lo stato di veglia. Simboleggia, quindi, un piano intermedio tra il cielo e la Terra. La curva superiore delle tre è nota come Pragma e rappresenta lo stato di incoscienza o di sonno profondo. È associato al Paradiso. In alto si vede un piccolo rombo su una piccola linea curva. Il rombo è noto come Bindu, e rappresenta lo stato di coscienza assoluta. Sarebbe lo stato di illuminazione o Nirvana, di connessione con la divinità. La linea curva sotto il rombo è nota come Mai e rappresenta l'illusione. O l'ignoranza che ci impedisce di raggiungere lo stato di Bindu o illuminazione. La barriera che formiamo attraverso i nostri schemi mentali. E che ci fa credere nell'illusione di essere disconnessi dal tutto o separati dalla divinità. Dove posizionare l'OM in casa? In India è comune vedere il simbolo OM rappresentato sulle porte di case, negozi e templi. La rappresentazione del simbolo OM nella casa aiuterà ad armonizzare l'energia. Grazie all'alta vibrazione che trasmette. Il simbolo OM è anche un potente simbolo da utilizzare come protezione contro le energie avverse. Per questo motivo è consigliabile posizionarlo vicino all'ingresso, ad esempio nella Hall. Anche per il suo significato legato alla meditazione, alla spiritualità e alla saggezza. È altamente raccomandato come attivatore dell'area di conoscenza Bhagwa. In quest'area del Bhagwa, ci aiuterà a concentrarci e a prendere decisioni con saggezza. Se in casa abbiamo uno spazio dedicato alla meditazione o dove abitualmente ci rilassiamo. È consigliabile collocare anche una rappresentazione del simbolo OM. Oltre ad armonizzare l'energia del luogo, ci ricorderà il mantra sacro, e i suoi benefici di pace e serenità. Un'altra area del Bhagwa in cui è altamente raccomandata è naturalmente l'area Bhagwa della salute. Perché come abbiamo già visto, l'OM ha grandi benefici per la salute. Per questo motivo, collocare il simbolo OM nell'area Bhagwa della salute ci aiuterà ad attivare quest'area grazie a ciò che simboleggia e all'energia che trasmette.